Un bacio. Ciao mamma. Ciao. Ehi, era tua mamma? Sì. Ti ha detto... Ma che cosa? Non ti ha detto niente? No, che cosa doveva dirmi? Ma che sono andata da lei, non te l'ha detto. Sei andata da lei? Sì. E perché? Per parlare, Camilla. Per parlare con lei. Ah, lo sapevo. Mi puzzava quella visita a tua madre. E che mi siete dette? Di cosa avete parlato? Abbiamo parlato di te. Di me. Camilla, io provo in mille modi a venirti incontro, a cercare un dialogo, ma mi trovo sempre davanti a un muro ogni volta che faccio un tentativo. Credimi, è faticoso. Ah, è faticoso. E per me invece com'è stato secondo te trovarmi senza un padre? Io non credo che... E per mia madre? Gemma, credi sia stato facile per lei? Tu sai, quando me non hai capito proprio niente di quello che è successo. Io forse non ho capito quello che è successo. Io forse non ho capito quello che è successo.